Cari compagni e compagni, il 13 settembre abbiamo tenuto un primo importante risultato per la battaglia e la realizzazione dell'unità via e l'incoruzione dei trattamenti sanitarie quando ritenuti, comporzionali e sopportabili da pazienti, deputati dalla Camera dei Reputati la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l'umanazia, sopportritta da più di 50.000 cittadini e cittadine. Ora, però, andiamo a superare lo sfoglio di certo con un indiferente per spingere meticolosamente il caramento italiano a risultare queste proposte. indirete, anche se la nostra classe dirigente politica è sempre più incapace, tante quante eccezioni alla fondata e a cercare di risolvere le problematiche che non sa quale società civile. Andreremo a fare in questo mio vero intervento confessuale è una visione estremamente importante considerata a qualche modo. Intanto, mi sto riferendo al diritto della vita sessuale e affettiva che ho mostrato a quanto riguarda le abbandoni di rinco sessuale e affettiva perché le abbandoni dei abbandoni di rinco sessuali e rinco sessuali sono costretti per quanto riguarda i rapporti di rinco sessuale e rincontersi. al settore sommerso nel mondo del quarantagno del nostro Paese e non solo della Costituzione. Quindi, in un gruppo anche le stesse associazioni che si occupano di disabilità appuntano quasi suggerente i problemi che sono di cambi inerenti all'accesso, all'accesso, all'accesso dei numeri complici elementi di trasporto, o all'assistenza domiciliare, eccetera. Sicuramente sono questioni essenziali per non sentire mai la decorata, qualità diventa per le persone disambili. Le persone disambili stanno passando, però, quasi sempre, la questione del diritto alla sessualità e all'attività. E si senta che, in certi casi, anche i genitori, le ragazze, le ragazze, con disambili stanno passando, non vedo, non con te mai, perché sono importanti anche per le loro figlie. Conseccome gli eterni bambini, e quelli che non vanno più suoi occhi, e varianti motivi su questo uomo, è un'importante questione. E io credo che noi, come associazione, da questioni, è un'importante che si accassero in cantinaia, una campagna, anche su questo fronte, che guardano i diritti civili, per le persone con disambili tanti, che guardano il tema, che è diventato sessuale, anche per le persone con disambili tanti. quindi, intendo che siamo, un tema che, a volte sulle, sul quale, ci dovremmo, impegnare i possibili, mesi. Direi di, prego comunque, grazie, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.